In via Vittorio Emanuele si trova il lavatoio pubblico conosciuto come lavatoio medievale presso il tardo rinascimentale Palazzo Martino. Nel 1514 fu demolito e ricostruito in posizione più arretrata rispetto alla mura cittadina e il fiume che scorreva al cielo aperto venne coperto nel XVII secolo. Nell'estate del 1991 sono stati ultimati i lavori di restauro. Il lavatoio si presenta con una scalinata in pietra che conduce ad una pavimentazione levigata dal tempo e ad una serie di vasche che si ritornano con le acque che scorrono dovevano chiudere a bocca in pietra divisa e disposte lungo le paredi sovrastate da fassolette attraverso un piccolo angro nasce da tutte le vasche. Le vasche sono evidenti gli avvorsi al contrario. Qua si trovinava i panini. Ciao! Quello di sapone. Cammalo faccia la mamma. Giai, come dobbiamo rifare la foto perché qua lavavamo il panino. Ciao! Ciao!